A Pagani l'anno scolastico inizia all'insegna del vandalismo. Ieri sera tre giovani malviventi hanno devastato l'istituto paritario Salvatore Peluso di Via Ferrante, il quarto atto vandalico ai danni della scuola dallo scorso aprile. Intanto tra oggi e domani tutti gli studenti della provincia di Salerno torneranno tra i banchi di scuola. Mino Pepe. L'anno scolastico riparte sotto il segno del vandalismo a Pagani, ennesimo tentativo di furto ai danni dell'istituto paritario Salvatore Peluso. Ieri sera intorno alle 23.30, orario probabilmente studiato ad hoc, tre giovani di cui due coperti da passamontagna sono penetrati nell'edificio situato in Via Ferrante, un colpo studiato nei minimi particolari e che fa pensare a ragazzi che conoscono molto bene la struttura. Dopo aver scassinato la porta principale, i tre hanno disattivato l'impianto elettrico, messo fuori uso le telecamere di sicurezza installate di recente ed hanno iniziato a vandalizzare le mura armati di bombolette spray. Dopo qualche minuto è scattato l'allarme che ha messo in fuga i malviventi, tutti ripresi dalle telecamere di sorveglianza. Ora il video è passato al comando dei carabinieri di Pagani, che sta procedendo all'identificazione dei colpevoli. Quello accaduto ieri è il quarto tentativo di furto ai danni della scuola, tre soltanto nell'ultimo mese. Pochi giorni fa era stata distrutta una delle telecamere poste al di fuori dell'istituto. Un problema, quello del vandalismo, che va ad aggiungersi alle altre affanni in cui annaspa la scuola negli ultimi tempi. Che è sempre più difficile poter fare qualche cosa nella realtà paganese. Noi con questa scuola volevamo fare qualcosa per Pagani e per l'Ago Lucerino Sarnese, però vedo che è sempre più difficile. Come ha detto lei è la quarta volta, la prima subito dopo Pasqua e poi tre nel giro di dieci giorni. Noi abbiamo allertato le forze dell'ordine per cercare di darci una mano, di esserci più vicini per quanto è possibile. Lavorare così con una spada di dame sulla testa, oltretutto mia figlia è pure abbastanza giovane, è veramente brutto, non si può lavorare così. Quindi non so chi mi possa ascoltare, chi può fare qualche cosa. Chiedo oltre all'aiuto dell'arma dei carabinieri, l'aiuto dei politici, l'aiuto del sindaco. Spero che possa essere ascoltato e si possa fare qualcosa. Tra oggi e domani tutti gli studenti della provincia di Salerno torneranno tra i banchi di scuola. Un ritorno scandito dalle polemiche e dalle proteste dopo la revoca da parte del Ministero della Pubblica Istruzione dei 450 posti destinate al sostegno e la successiva concessione dopo una dura contrattazione di appena 240 posti. La provincia di Salerno ha stanziato in materia di diritto allo studio e formazione scolastica circa 1.088.000 euro, di cui 700.000 per il bando che regola i contributi per il trasporto dei ragazzi disabili. E proprio questa mattina l'assessore provinciale trasporti, Romano Ciccone, ha incontrato i dirigenti degli istituti scolastici che, in seguito alla riforma del Ministro Gelmini sul prolungamento dell'orario e la necessità di rivedere la qualità dei servizi del trasporto pubblico scolastico, ne avevano fatto richiesta. Ciccone ha assicurato che avvierà una verifica di eventuali interventi aggiuntivi che l'amministrazione provinciale potrebbe adottare per assicurare il collegamento degli studenti alle proprie scuole.